buongiorno buongiorno allora faccio anche l'inter in questa serie di video dedicati alla ripresa del campionato delle ostilità diciamo in cui vado ad analizzare per ogni singola squadra come mi vedo il ritorno in campo alchimia aspettative questioni feci e aspetti più delicati in vista di questa ripresa del del campionato vi invito ad iscrivervi a condividere a far iscrivere tutti i tifosi che conoscete e parliamo dell'inter di conte allora subito iniziato il tam tam dei giornali che ci dice che conte ha messo i suoi al duro lavoro gli allenamenti di damarin di conte e conte li torchi ai giocatori allenamenti intensissimi così e via dicendo tutto per dire sostanzialmente che l'inter vuol fare una partenza a razzo similmente a quella che ha fatto ad inizio stagione io credo che il discorso in coppa italia sia molto aperto nel senso che lo 0 a 1 del napoli a san siro significhi poco ve lo dico onestamente 1 0 a 1 è ribaltabile se l'inter segna un gol ad inizio partita è tutta è tutto un altro discorso un gol non vuol dire niente al giorno d'oggi quindi in coppa italia il risultato lo vedo ampiamente ribaltabile per quel che riguarda il campionato è un discorso più su lungo respiro e ci possono essere delle positività e delle criticità allora le positività che vedo voglio legarmi al mainstream nel senso che se veramente conte sta lavorando a ritmi molto intensi probabilmente l'inter avrà di che giovarne dal punto di vista di una superiorità fisica almeno all'inizio c'è una squadra che è più in palla con i ritmi con con alti ritmi di partita questo però può essere anche un coltello una lama a doppio taglio perché in un periodo nel quale le temperature sono comunque alte è vero che si gioca la sera quindi cambia però ad una certa arriverà l'afa arriverà comunque il caldo estivo che in italia conosciamo bene a fronte di questa situazione ambientale indipendentemente dalla preparazione fisica che hai fatto l'inter ha un gioco che è molto di velocità di movimento di tenacia diciamo l'inter ha un gioco basato sulle ripartenze no e avere un gioco basato sulle ripartenze può essere più difficile da fare in estate con un clima avverso specie ogni tre giorni rispetto magari ad avere un gioco basato sul possesso palla è quello che vi dicevo oggi sulla juventus questo può essere un rischio è più faticoso correrte rispetto al far correre il pallone detta tranchant detta tranchant quindi il rischio che vedo per l'inter è questo il fatto di avere un gioco che richiede molto dispendio fisico la rosa a mio avviso non è corta ma non è neanche lunghissima i titolari magari pensate anche difesa centrocampo e attacco per esempio in attacco l'inter dovesse essere stanco uno dei due come è successo da gennaio in poi dovesse infortunarsi uno dei due giocare ogni tre giorni a certi ritmi a ritmi contiani può essere veramente un rischio quindi per carità è bene gasarsi sulla preparazione sui grandi carichi fisici però ragioniamo anche su sto fattore qua e lo chiedo anche a voi di scrivermelo nei commenti non credete che il gioco di conte senza un dispendio fisico comunque controllato e senza delle riserve pronte a subentrare all'altezza dei titolari possa rivelarsi un'arma a doppio taglio magari specialmente dopo una due settimane dopo due settimane di media dall'inizio dal dall'inizio della ripresa stessa questo a mio avviso può essere un fattore di rischio ripeto cioè quello del dispendio fisico richiesto dal gioco di conte in un periodo come questo e con dei caldi come quelli che presto arriveranno discorso ericsson ho sentito persone che parlano di un di un conte che sta basandosi sul 4312 comunque di un ingresso di ericsson ecco per certi versi ericsson potrebbe anche essere quel giocatore che sta situazione te la risolve perché è un giocatore non è un giocatore contiano ma per certi versi questo in questa situazione qui di post quarantena di ritorno in campo può esserti utile perché è un giocatore che fa correre la palla ericsson è un giocatore che ti fa anche correre la palla che ti fa un lancio preciso che ti tiene le geometrie che sa trattare la palla in un periodo di questo tipo può essere molto importante avere un metronomo del genere a centrocampo capito bisognerebbe che anche i vari brozovic o gente di questo tipo imparasse a fare altrettanto capito magari a essere meno irruenta penso anche un barella meno irruenza e maggior controllo il cambio di schema da sto punto di vista qui ti può essere utile perché come vi ho detto fin dall'inizio stagione a me il 352 piace tantissimo sapete però probabilmente conte avrebbe fatto bene ad inizio stagione a alternarlo ad uno schema ad alternarlo ad un altro schema che poteva essere ad inizio stagione il 4 2 3 1 da cui la squadra proveniva e che aveva utilizzato con spalletti ok ad oggi può essere un 4 3 1 2 va benissimo non credo che l'inter giocherà sempre col 4 3 1 2 anzi credo che comunque conte avrà una predilezione per la sua difesa 3 per le due punte e per il 352 di base però se dovesse alternare in certe partite un 4 3 1 2 potrebbe anche essere una buona soluzione mi vedo anche una situazione di questo tipo è molti si chiedono come funzionerà tra sensi ericsson chi giocherà potrà tranquillamente funzionare così in certe partite giocherà sensi nel 352 poi alterni magari nella partita dopo con un 4 3 1 2 con ericsson messo dietro le due punte e sensi che parte dalla panca può anche essere questo l'alternanza tra sensi ericsson può significare anche alternanza tra due moduli e quindi un utilizzo diverso delle risorse sarebbe uno strumento una cosa molto intelligente cosa mi aspetto dall'inter io non mi aspetto lo scudetto dall'inter onestamente mi aspetterei però un secondo posto io non credo che l'inter sia fuori dai giochi per lo scudetto e ve lo dico qui molto tranquillamente ha meno possibilità ovviamente della juve ha meno possibilità della lazio però un 10 per cento di possibilità glielo do anche perché voglio dire se vi allora parliamoci chiaro se in casa perdi o pareggi con la sample recupero è veramente difficile è già è già è già quasi un dentro fuori per lo scudetto parlo è quello l'impegno in casa con la sam perché se perdi e resti a meno 9 è veramente dura se pareggi vai a cosa meno 8 è inizia a essere dura ma se dovessi vincere e l'inter in casa con la sample credo che abbia tutto per poter vincere meno 6 è una distanza assolutamente lavorabile cioè 6 punti in 12 partite sono una distanza che assolutamente comprende l'inter nella lotta scudetto detto questo come vi ho sempre detto l'inter quest'anno non puntava lo scudetto quindi non ha una squadra non ha una squadra che dici è da scudetto quindi non è neanche giusto chiederglielo è una squadra che a mio avviso quest'anno se chiedevi a zang marotta cosa avrebbero voluto fare vi ripeto ottavi di champions è secondo posto quindi accreditarsi come la prima anti juve credo sia possibile perché il napoli è fuori dai giochi per il secondo posto la lazio per me come squadra sebbene abbia un centrocampo che è da veramente da spaccarselo in mano la reputo comunque sulla carta attenzione alla vigilia la partenza del campionato inferiore all'inter io credo che l'inter dall'inter ci si possa aspettare un secondo posto che significherebbe l'accreditarti quantomeno come prima rivale della juventus in italia che è quello in vista soprattutto dell'anno prossimo che gli zang chiedono che che si vorrebbe nessuno ti chiede lo scudetto però un secondo posto penso sia raggiungibile non sarà facile ma io chiederei questo alla mia squadra ecco se sarei come dicono i futuristi interista chiederei secondo chiederei secondo posto e magari in coppa italia vedere cosa succede poi farò un video nei prossimi giorni su cosa succede per me in coppa italia con i vari pronosti questo mi aspetto secondo posto poi dell'europa league parleremo più avanti anche in base a come finirà il campionato quello è un discorso diverso vi parlo di ripresa del campionato vi ripeto mi vedo un inter sicuramente sul pezzo però ragioniamo sul fatto della del dispendio fisico chiesto dal gioco di conte e se questo non può rappresentare un'arma a doppio taglio specialmente quando utilizzi il classico 352 contiano una volta ogni tre giorni valutiamo questo discorso di ericsson essensi alternati con due moduli alternati che per me potrebbe essere la cosa più intelligente cosa mi aspetto mi aspetto un inter che punti al secondo posto e che possa raggiungere quanto meno il secondo posto e questo credo sia l'obiettivo questo credo possa essere l'obiettivo e penso possa essere raggiungibile insomma con poi pensare magari alla coppa uefa in base a cosa hai raggiunto in campionato proiettarsi alla prossima stagione e mi aspetto questo insomma mi aspetto questo e queste criticità ditemi voi cosa vi aspettate ditemi voi cosa vedete criticità punti cosa pensate della situazione inter e poi domani andiamo avanti con le altre squadre un caro saluto